Fino al 22 febbraio i dipendenti TR continueranno a restare in cassa integrazione ordinaria e questa la sintesi del documento approvato in prefettura Isenia da Petraroia, i sindacati e l'amministratore delegato Giovanni Petrollini. La cassa integrazione straordinaria al momento è stata congelata in attesa dei risultati del vertice previsto il 29 gennaio a Roma presso il Ministero del Lavoro. In prefettura è stata ripresa la proposta di far riconoscere l'area di crisi nel distretto produttivo Boiano Isenia Venafro attraverso l'adozione di delibere dei consigli comunali che seguono quanto già fatto dal comune di Venafro trasmettendole all'attenzione del governo nazionale della presidenza del Consiglio dei Ministri insieme ad un'intesa firmata dalle parti sociali e imprenditoriali. L'accordo prevede impegni prioritari di riassorbimento per i lavoratori collocati in cassa integrazione in mobilità o licenziati dalla filiera del tessile, dell'avicolo e del settore metalmeccanico. Il sindaco di Isenia Brasiello coordinerà il tavolo istituzionale di raccordo con l'obiettivo di ottenere uno strumento straordinario di finanziamento nazionale in favore delle imprese che intendono investire sul territorio individuato dal distretto produttivo di Boiano Isenia Venafro. E questo è il risultato ottenuto dai sindacati e lavoratori TR dopo il confronto ottenutosi alla prefettura di Isenia con i vertici aziendali rappresentati dall'amministratore delegato Giovanni Petrollini e dal consulente esterno Claudio Fuschino. I due alla fine del confronto sono stati anche duramente contestati dalle maestranze radunatesi in gran numero fuori dall'ufficio territoriale del governo di via Kennedy sempre più preoccupate per il loro futuro lavorativo.